Differenziare, riciclare e dare una seconda vita ai nostri rifiuti nell'ottica del raggiungimento. Entro il 2030, dell'84% di raccolta differenziata. Sotto i riflettori l'olio esausto alimentare e i tessili, abiti ma anche scarpe e borse. Così Etra ha posizionato nuovi contenitori ad hoc per il loro corretto conferimento. Negli ecocentri dei 66 comuni della Multi Utility, 42 di Padova e 24 nel Vicentino, sono stati collocati 216 nuovi contenitori per l'olio, 250 per i rifiuti tessili, uno ogni 2000 abitanti. Gli oli di cucina sono un prodotto altamente inquinato e si è disperso nell'ambiente e quindi il recupero in maniera corretta ci permette di trasformarlo in una risorsa importante perché vengono trasformati in biodiesel, quindi in carburanti alternativi e il vestiario, la cui produzione è calcolata in 5 kg per abitante all'anno, I vestiti ancora utilizzabili vengono dalle cooperative avviati verso il riutilizzo, i mercatini dell'usato, distribuzione presso i centri di accoglienza e quant'altro. Quelli non utilizzabili perché deteriorati vengono macerati, vengono triturati e vengono fatti altri prodotti tipo le imbottiture o cose di questo tipo. Un processo richiesto da tempo dagli amministratori dei comuni gestiti da Etra. Era un'esigenza annosa nonostante il problema appunto stato risolto con una maniera innovativa ma era annoso perché per quanto riguarda l'agliosausto veniva smaltito in maniera inopportuna nei lavabili piuttosto che nei tombini o qualcuno purtroppo anche nei corsi d'acqua e per quanto riguarda i tessili venivano gestiti in maniera quasi privatistica in aree private e causavano veramente abbandono rifiuti piuttosto che smaltimento inopportuno.